ho svegliato l'end pensavo fosse più basso mannaggia me vabbè dovrei comunque farcela oddio no ci sono già tre persone ah ma gli elicoteri sono qua beh ez easy clap marian devo giocare marian aimbot mi devo spaccare le strutture ma non ci sono le strutture dei nemici nessuno che buildano a sto game vediamo se buildano qua dai due build devo spaccare credo una finite let's go dai uè mamma mia se morivo veramente mi insultavo da sola questo secondo me l'ho fatto spaventare comunque no aveva comprato pure il cecchino della storm no brava mi dispiace troppo gli ho fatto perdere un sacco di soldi questo cecchino comunque era veramente stupido in competitive era troppo forte hanno fatto bene a levarlo mamma mia che schifo che faceva troppo 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 broken una roba veramente indecente ve lo giuro buonasera signorina tutto bene dove si trova la mia preda ah qua vicino ezz vediamo se la troviamo tanto sicuro è qui nei paraggi ho dimenticato di levare il piccone ragazzi è inguardabile il piccone devo toglierlo subito ciao 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 Sì Ce l'ha lui Ce l'ha lui Wow non ci credo Ma l'ho chiamato E' la prima volta che l'avete in game No way Wow Vuoi farci double pump? Come double pump? Ma cosa mi state dicendo? Bella madonna Dove è c***o finita? Weee Dai si ha fatto lo scildone veramente Uuuh Uela M***a Fortissima Mamma quant'è bella sta arma Mi è sempre piaciuta tantissimo ve lo giuro Quindi mi dà quell'effetto tipo dello sbalzo Però è comunque forte E sbalzo pure lui Cioè se colpisco lui sbalzo lui No ma la cosa che dico io Che assurda E' che io vi avevo detto Tipo tre minuti fa Cinque minuti fa Se esisteva il double barrel in game E voi avete detto Sì ma artisiste E lo vende un tizio per la strada Cioè lì non so dove E non sapevo neanche che esistesse E da quando è iniziata la season E' la prima volta che trovo sto pompa E lo trovo nel momento in cui ve lo chiedo Se esiste o meno Cioè E' una cosa assurda Oh c***o frato Ho spaccato proprio Sento le lacrime Bella vera Immagina vera 0 di ping Voilà Tutto bene Omer Tutto bene Omer Simpson Hai preso un po' di Mal di testa Ecco questa è la definizione Del perché Il mio ping è un problema Cioè io questo qua L'ho craccato L'ho messo un wash Immaginatevi una situazione del genere In un torneo Io riesco a laserare Una persona del genere In questo modo E qualsiasi altro giocatore Forte con il ping giusto Avrebbe rimpiazzato E l'avrebbe ucciso Mentre il mio fight Dura 30.000 secondi Perché non riesco a rimpiazzare Aspetta Rega 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 No No rega So Bestemmio Double pump Ma che vuole questo È l'amador È l'amador Oh Double pump Sei caduto E hai preso un po' di fall damage Incredibile Uè No 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 Mi fai paura Sgodo Come un riccio appena nato Da poche ore Non puoi competere Con la mia doppietta Cioè Questa doppietta Me la sono guadagnata L'ho cercata per anni E finalmente l'ho trovata E non posso Non posso Non posso Cioè No No rega Quest'arma qua Quando c'era Era una delle mie armi preferite Perché quando mi Entravano nel box O io entravo nel box Dagli altri Quest'arma ragazzi Bisciottava Vi giuro tutto What? Che? Ma che è? Ma questo è il game Delle robe che trovo strane Ma pensate che roba Wow Questo è il barret Me l'ha veramente attaccato No ragazzi Sto rosicando No questa cosa è illegale Non è matematicamente illegale Sono morta Ci sono barili qua? Questo è un problema Raga Cioè raga È un problema questo Cioè raga Ti è piaciuta la mia doppietta? Dritta proprio sulle gengive Nio 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 Madonna regà sto pompa è Bellissimo Questo era uno dei miei pompa preferiti Comunque regà c'è assurdo Cioè sto game ho beccato due armi che non avevo mai visto in tutto il game Il Dumble Barret che sto utilizzando adesso io E il Barret Ma il Barret ragazzi è veramente una rottura di palle Il Barret così è una rottura incredibile Ma è assurdo cioè è forte Trattate il Barret è sempre stato molto sbroccato Bene io solamente perché ho provato per la prima volta Questa pompa fossi in voi Scriverei adesso da canale Così almeno il vostro nome uscirà Nel video che uscirà Nei prossimi giorni Nel mentre Che questo video sarà già stato visto da un po' di persone Io mi andrò a mangiare Un po' di pasta e un po' di polletto Sì è proprio Quello che andrò a mangiare Al 100% Ma come siete bravi a spammare Da canale